Anche il comune di Agropoli scende in campo per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, prevista per il prossimo 25 novembre. Come ogni anno l'assessorato alle politiche sociali ha deciso di programmare delle iniziative di sensibilizzazione su un tema che ormai è sempre più presente nelle cronache. L'appuntamento è a partire dalle ore 11 in piazza Vittorio Veneto, la scuola di danza Terry Dance in collaborazione con l'associazione Sbandieratori Cilentani organizzerà un flash mob sul tema. All'iniziativa seguiranno gli interventi del sindaco Adamo Coppola, dell'assessore alle politiche sociali Maria Giovanna D'Arienzo e dell'avvocato Benedetta Sirignano, presidente della FIDAPA di Agropoli. Sarà l'occasione anche per illustrare i tanti servizi messi a disposizione delle vittime di violenza come lo sportello contro la violenza di genere. Dalle ore 18 inoltre il municipio si tingerà di rosso, il colore che rappresenta questa giornata. Resterà illuminato così fino a domenica 28 novembre quando sempre alle ore 11 si replicherà il flash mob in piazza Vittorio Veneto. L'amministrazione comunale, afferma l'assessore con delega alle politiche sociali Vanna D'Arienzo, è da sempre vicina alle vittime di violenza. Presso il nostro comune sono attivi lo sportello contro la violenza assistita per minori abusati e maltrattati e lo sportello contro la violenza di genere. La sensibilizzazione e la prevenzione possono essere mezzi utili a far sì che tale piaga sociale possa venire una volta per tutte arginata e magari un giorno sconfitta.